Nel cuore di Sondrio, due anime coraggiose si sono gettate nella gelida riva di un torrente alpino, intraprendendo un atto di eroismo senza esitazione, nella speranza di salvare un compagno a quattro zampe. Ma l'acqua impetuosa ha tenuto stretto il suo velo segreto, nascondendo le due donne dalla luce del giorno. Questo tragico episodio ha avuto luogo durante un'escursione nell'alta maestosità delle montagne di Lanzada, dove la natura selvaggia e l'imponente di acciaio fellaria dominano il paesaggio. Le voci dell'emergenza hanno raggiunto le orecchie dei guardiani delle vette, scatenando una risposta tempestiva da parte di squadre di soccorritori, tra cui gli eroici membri del sagsoccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, i valorosi vigili del fuoco e i generosi volontari del soccorso alpino. Ma il destino incerto e le correnti implacabili del torrente hanno dato poche tracce, lasciando solo una nube di preoccupazione sospesa nell'aria. Il fruscio delle acque ha inghiottito le gesta di queste donne audaci, mentre tentavano di afferrare un barlume di speranza al di là di un ponticello che attraversava il corso del torrente. Il loro obiettivo era nobile, spingersi oltre la propria sicurezza per portare in salvo un essere innocente intrappolato tra le onde frementi. Ma l'acqua ha abbracciato il loro coraggio con un abbraccio senza fine, portandole via dalla vista dei presenti, come se le montagne stesse volessero custodire il loro sacrificio. Nel calore di un sole che sorge tra le vette, le voci di alcuni viaggiatori avrebbero raggiunto le orecchie attente, portando con sé l'eco di un atto di eroismo sfuggito a ogni controllo. La speranza, ora un delicato fiore che sfiorisce, danza sulla corrente del tempo. Le acque del torrente continuano il loro viaggio, portando con sé il segreto di quelle donne che hanno abbracciato il freddo abbraccio delle montagne e si sono fuse con la maestosità silenziosa della natura. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.